Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in collaborazione con tutte le associazioni cittadine, vi invita a partecipare a Pasquetta Insieme! Lunedì 28 marzo 2016, nel Parco Verde di Marina di Gioiosa Ionica, dalle ore 11 in poi, troverai un'attrezzata area picnic, tanta buona musica e alle ore 17 spettacolare concerto del gruppo di musica etnica Alma Folk. Radio Gioiosa Marina, official radio partner. Vi aspettiamo! Grazie a tutti!